questo coffee time è un coffee time un po' speciale perché come vedete insomma oggi è l'otto marzo e festa della donna noi volevamo affrontare questa ricorrenza che come sappiamo insomma è legata molto anche ad una storia di lavoro addirittura ad un incidente insomma sul lavoro proprio da questo punto di vista quindi le donne che lavorano in particolar modo le donne che lavorano in agricoltura perché ci sono dei dati appunto di col diretti che ci raccontano appunto che una impresa su tre in provincia di Arezzo è guidata da una donna noi siamo in collegamento con Elisa Rampi della omonima azienda agricola fondata dal babbo Pietro ma che lei sta portando avanti intanto buongiorno ti troviamo al lavoro Elisa sì buongiorno sono al lavoro e come vedete intorno ci sono disegni di vario tipo perché ovviamente da donna insomma ho i miei figli che fanno i compiti qui in ufficio con me quando tornano quindi alle mie spalle ci sono le loro postazioni di lavoro sì sì la mia guarda ora non posso girare la telecamera ma è altrettanto di vario pinta diciamo così la stanza anche i miei sono cresciuti sotto la scrivania allora perché questa scelta di impegnarsi in un mondo appunto come quello dell'agricoltura è insomma che non è proprio che non è proprio semplicissimo da portare avanti quindi sicuramente la storia della tua famiglia quindi il fatto che il babbo abbia fondato la l'impresa però poi appunto con i figli che la famiglia non è certamente un lavoro semplicissimo Elisa diciamo che non è un lavoro semplicissimo ma il tutto è dettato sicuramente dalla passione perché comunque la decisione è stata presa in totale autonomia perché nessuno in realtà se l'aspettava questa mia scelta il giorno dopo praticamente eh la laurea e già facevo altri lavori e però eh ho optato per per questa scelta ne sono ne ero convinta all'epoca perché ripeto non è stata assolutamente pilotata da nessuno e ne sono sempre più convinta adesso perché sì è vero è sicuramente molto faticoso eh perché nel frattempo sono arrivati i bambini e però eh è una scelta che eh ti permette comunque di eh avere sempre la famiglia anche sotto controllo la nostra poi è un'impresa familiare quindi eh ci sono i miei genitori ci sono i bambini che entrano e escono dall'ufficio eh i nostri operai gravitano intorno a casa eh quando c'è quello a pranzo quando c'è quell'altro quindi anche i miei figli crescono in un ambiente eh diverso che non è come farli semplicemente crescere dalla nonna ma eh crescono in un ambiente in cui vedono eh la mamma che eh fa determinate trattative anche mentre loro sono semplicemente qui che fanno i compiti ormai sono abituati e rassegnati però eh sicuramente l'organizzazione familiare è sempre serratissima con programmi serratissimi però questo mi permette anche di seguirli sempre. Il fatto che appunto tu dica i miei figli fanno i compiti qui nel mio ufficio ma come del resto anche i miei ripeto potrei allargare lo sguardo e farvi vedere cosa ho dietro la scrivania ehm questo significa che anche se le donne insomma sono sicuramente hanno non ce ne vogliono i maschietti insomma una marcia in più e riescono davvero a essere la dea Calì eh però l'Italia non è un paese diciamo per per le donne nel senso non ci sono eh non ci sono non c'è un'organizzazione diciamo del mondo sociale e del welfare in generale eh che consenta alle donne di non lasciare i figli sotto la scrivania ma poi c'è una scelta quello è un altro discorso ma eh non c'è un'alternativa ecco se non questo era quello che volevo eh cercare di capire se condividi io ho la ho la fortuna di avere mia mamma che quindi mi dà una grossissima mano e e per fortuna che c'è perché altrimenti si eh diventa davvero un problema nonostante che io sia eh in totale autonomia di per decidere i miei orari i miei appuntamenti però è sicuramente molto complicato anche perché adesso insomma seguire eh gli sport eh la scuola non è semplice e inoltre spesso e volentieri eh nel mondo agricolo come in tanti altri mondi insomma si trova un po' di opposizione nei confronti delle donne mi è capitato di sentirmi dire che siamo nel 2023 giusto qualche anno fa che essendo una donna dovevo andare a fare la calza andare a fare l'uncinetto non portare le pantofole a casa al marito questo te l'hanno detto gli uomini ovviamente questo questi questi inviti che insomma poi rimandiamo al mittente serenamente te l'hanno te l'hanno fatti gli uomini immagino insomma te l'hanno fatti gli uomini e con con una faccia estremamente allibita di mio padre che eh finché non ha sentito con le sue orecchie non si rendeva conto che davvero ancora ci fossero questo tipo di eh di affermazioni nei confronti delle donne perché in casa mia non c'è mai stato questo problema uomo donna eh mia madre guida i trattori meglio di qualunque uomo abbia mai visto abbiamo visto nelle foto l'abbiamo vista esatto non c'è quindi non non c'è mai stato questo questo tipo di approccio e invece in realtà ancora è ben diffuso e da quando mio padre se ne è reso conto è rimasto gli si è gli si è aperto un mondo perché ripeto era lontano dalla sua mentalità e invece ancora così purtroppo e da lì deriva del festeggiare un po' la festa della donna perché bisogna aprire gli occhi un po' a com'è la situazione ancora senti come insomma anch'io tu sai no sono un direttore e qualche volta mi chiamano direttrice e io ricordo che la direttrice è la i45 ma detto 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 questo detto questo io cerco per quanto possibile ovviamente di avere anche nel nel nostro mondo insomma nella nostra redazione tante colleghe eh giornaliste non che per carità i gli uomini siano meno però insomma se devo scegliere ecco a parità di 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 bravura insomma spesso e volentieri cerco di ehm insomma di avere intorno a me eh colleghe appunto al al femminile poi invece la il reparto tecnico invece un pochino più tutto al maschile ma detto questo era per dire per chiederti se anche tu nella tua azienda ecco eh fai questo tipo di scelta o se semplicemente invece eh così eh ti contorni di collaboratori scelti non in base ovviamente al loro eh genere ma alla loro capacità. Dunque eh attualmente i miei collaboratori che sono sei sono uomini eh poi ci siamo io e mia mamma che eh facciamo un altro tipo di lavoro e eh un'altra ragazza che mi dà una mano nel lavoro che faccio io e un'altra signora che mi dà una mano nel lavoro faccio io. Eh quindi esatto. Questo perché ovviamente a livello di forza la differenza c'è perché per quanto riguarda certi lavori eh lo dimostra bene la mia schiena che è a pezzi e che eh a breve dovrò sottopormi un intervento eh di neurochirurgia perché eh cerco di fare tutti i lavori che fanno anche gli altri ma non è sempre possibile. Tuttavia eh le riguarda le capacità la differenza è nulla perché eh io vedo i miei dipendenti con me eh cercano di darmi una mano sapendo che in questo momento sto male ovviamente però eh quando c'è da fare il i lavori più manuali comunque quelli più eh sottili loro si trovano in difficoltà con me magari c'è da etichettare barattoli eh si trovano un po' più in difficoltà mi guardano come dire rimandaci dove dove eravamo perché con te non ti stiamo dietro. Sì ma guarda credo che questo tuo racconto ci ci dica una una cosa molto semplice che uomini e donne eh sono appunto due generi diversi quindi hanno caratteristiche diverse sotto il profilo dei diritti siamo tutti. Sotto il profilo delle delle prerogazioni no ecco questo credo che sia io rivendico insomma di avere capacità. È fondamentale. È viceversa sotto il profilo dei diritti siamo d'accordissimo che che siamo tutti sullo stesso piano. E questo è è fondamentale sì direi che assolutamente è fondamentale e da parte di una donna è fondamentale eh quando sei insomma nella direzione di un'azienda eh contornarsi di persone che si rendano ben conto di quanto eh tutti quanti abbiamo gli stessi diritti e gli stessi doveri ovviamente tuttavia ripeto ancora in certe circostanze ci scontriamo con con l'ignoranza. Poi forse in agricoltura in certi in certi momenti siamo anche un un po' più avanti proprio perché ci sono tantissime donne tuttavia in certi mondi ancora la situazione è molto chiusa ripeto perché un mi è capitato un camionista che non voleva farsi scaricare da me. Accidenti. Ah beh fallo da solo. Eh no 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 ma solo no. Il muletto è mio non fa da solo. Se vuoi scaricare ti scarico io. Il muletto è mio mi piace tantissimo. Brava. Bella questa espressione. altrimenti quella è la porta. Brava brava. E io mi è capitato che i miei operai si siano messi lì di lato al muletto così ad aspettare. Ah ok. Se si voleva far scaricare eh c'ero io altrimenti niente. Bella mi piace tantissimo. Chiuderei proprio con questa espressione di di Elisa e quindi insomma davvero forza e coraggio. il tempo di un caffè Elisa è finito ma insomma è stato veramente piacevole. Io faccio rivedere sai oggi in redazione ci hanno fatto trovare la mimosa ma io dico sempre che insomma la festa eh della donna è tutti i giorni quindi simbolo sicuramente anche di col diretti. Oggi eh insomma c'era un comunicato stampa eh di una tua collega sul fronte ovviamente florovivaistico quindi complimenti anche a loro. dovevo essere dovevo essere presente anch'io perché faccio parte del coordinamento donna impresa ma con il problema che ho attualmente alla schiena faccio veramente fatica a spostarmi in macchina sto aspettando. Le salutiamo le salutiamo con con una mimosa assolutamente e grazie ad Elisa e forza avanti a tutte le donne. Grazie a voi. Grazie a voi.